E' stata una domenica di paura per un gruppo di pellegrini, circa una cinquantina, che ritornavano da San Giovanni Rotondo dopo aver passato una giornata da Padre Pio. Erano le 19 quando i vigili del fuoco di Avellino sono dovuti intervenire sull'autostrada A16 Napoli-Canusa, poco prima il casello di Vallata in direzione Napoli per un incendio che aveva interessato il pullman. L'odore acre che ha subito destato preoccupazioni tra i passeggeri e l'autista ha preceduto di qualche secondo le fiamme. L'autista è riuscito, nonostante gli attimi di panico, ad accostare e mettere in sicurezza tutti i passeggeri che si sono catapultati fuori dall'abitacolo. La sala operativa al comando di via Zigarelli ha inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Bisaccia e Grotta Minarda, supportate da un autobot e la sede centrale. Il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme, è andato all'indietro, finendo per urtare un'autovettura che si era fermata a poca distanza per aiutare i passeggeri. Le fiamme, che interessavano i due automezzi, sono state spente mettendoli anche in sicurezza. Sono arrivate anche tre autolettighe del 118 per prestare assistenza ai passeggeri ovviamente scioccati. Per fortuna non si sono registrate persone ferite, tranne un comprensibile spavento generale. I malcapitati sono stati trasferiti, qualche centinaio di metri più avanti, dal luogo del sinistro all'interno di un capannone di proprietà della società autostrade, ubicato all'uscita del casello autostradale. Rallentamenti alla circolazione sono avuti durante le operazioni di spegnimento. Il casello di Vallata, per chi proveniva da Velino Ovest, da Bari, è stato chiuso in attesa alla rimozione dell'autobus di proprietà di un'azienda privata. Sulle cause dell'incendio stanno lavorando i caschi rossi. Molto probabile si sia trattato di un guasto meccanico.